Ben arrivati sul canale di GeneticDNA, come potete vedere alle mie spalle ho ancora la mia fottuta Playstation 3 che sta facendo i suoi cazzi questo video lo faccio per ringraziare e per supportare l'amico CryGenetic che mi ha fatto il mio nuovissimo background e avatar un background molto più pulito e professionale rispetto a quello che avevo prima quindi voglio ringraziarlo e per chi ancora non lo conosce iscrivetevi, vi lascio il link sempre in descrizione comunque lo trovate anche nei miei canali consigliati fa un po' di tutto, unboxing, vlog, gameplay eccetera 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 e adesso fa anche background e avatar per Youtube quindi mi raccomando iscrivetevi e iscrivetevi cazzo insomma e niente, qui è tutto, ciao ciao da GeneticDNA e prossimamente ci saranno dei gameplay con la Xbox 360 perché ormai la Playstation 3 per il momento è fuori uso e stasera ci sarà un unboxing, un doppio unboxing di due collector ciao ciao a tutti da GeneticDNA ciao a tutti ciao a tutti